Eccoci qua cari amici, appassionati, appassionati di cabina H, Pia 691N, guardate qua, è iniziato il raduno nelle zone del Bresciano, abbiamo qua davanti a noi un bellissimo mille piedi, spettacolare, vediamo un po' che tipo di manovra va a fare, io ve lo faccio vedere così, un è buona, vorretevi un po' il 691N in manovra, guardate qua, guardate qua il plasticone che ha difficoltà a superare il 691N, eccoci qua, appassionati, appassionati di cabina H, è solo così, un'infarinatura di questo bellissimo 691N delle zone delle miglia, io ve lo faccio vedere un po', eccoci qua, prima volta che lo vedo anch'io questo 691N, un inedito per i video del Marvin, spettacolare mille piedi qua, finalmente un mille piedi, rimocchio Bartoletti, e vediamo un po' la situazione, saluto un po' tutti gli amici appassionati di vecchi camion, appassionati di cabina H, Luca Ravenna, che l'ha già visto questo camion, probabilmente nel raduno di Ferrara, e niente, insomma, questo è un po', è l'inizio del raduno qua, eh, vediamo un po', guardate qua, plasticoni appunto, spazietiti per questi vecchi camion, e guardate là, l'uomo della barba, qua, guardate 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 qua e niente ragazzi con questo vi saluto vi ho dato così un'infarinatura di cos'è il 691 ragazzi vi saluto lo aspettiamo spettacolo speriamo che sia un buon raduno e che vada tutto bene alla prossima